Si chiama Connor Strinkowski e pensate che è il runner che ha corso a New York nella famosa maratona col pettorale spillato sulla pelle. Voi pensate infatti che è apparso questo, chiamiamolo questa striscia, questo adesivo, però non stampato sulla maglietta, ma ha corso quest'uomo a torso nudo e si è spillato la targhetta distintiva, il suo numero identificativo e via di seguito. Ha sorpreso tutti, nessuno escluso, l'uomo in questione, Connor facendosi spillare direttamente nella viva perle, nella viva carne, questo manifesto, ossia il suo numero identificativo. Il maratone da essere mortato da altri maratoniti, Strinkowski corre con la squadra di New York Ayers e ha garicciato in altre gare senza la maglietta e col pettorale, che ovviamente è fondamentale, però ha puntato sulla pelle, sulla viva pelle, sulla carne nuda. Una cosa incredibile, penso immagino il dolore che abbia sentito quest'uomo, ma lo ha fatto lo stesso. Una buona giornata a voi tutti.